benvenuti un nuovo appuntamento di salva un amico siamo al parco canile empa di monza siamo in compagnia di federica siamo in compagnia di federica e del piccolo rudolf un coniglietto perché si chiama così qual è la sua storia allora rudolf è stato abbandonato la vigilia di natale in una scatola con tanto di scritta c'è un coniglio che vuole prenderlo ed è stato lasciato davanti a un condominio quindi abbiamo deciso di dargli questo nome della renna di natale quindi qual è il suo carattere sembra dolcissimo lui è molto tranquillo molto abituato a stare già con gli altri conigli e tende a essere molto protettivo poi con con le coniglie con cui convive ma essere anche estremamente dolce ama farsi fare le coccole interagire con le persone ed è sicuramente un coniglio molto simpatico e carino ecco sono tanti ormai gli abbandoni anche di conigli perché perché purtroppo spesso vengono presi perché comunque è facile acquistare un coniglio vengono tenuti in gabbia poi gli animaletti si stressano ci si rende conto che è più impegnativo di quello che effettivamente uno pensa perché comunque al coniglio bisogna seguire una determinata alimentazione fare attenzione a molte cose anche a livello di vaccini di cure vengono poi presi e abbandonati in giro spesso nei parchi quando va meglio vengono a chiedere a noi per poterli ritirare se no vengono lasciati nei posti dove c'è un pochino di erba in modo tale che si pensi che tanto così possano mangiare e sopravvivere quindi lo ribadiamo anche i conigli hanno bisogno di libertà in casa esatto il coniglio può tranquillamente adattarsi all'appartamento stando facendo attenzione a come si gestiscono a come sono posizionate le cose in casa il coniglio può tranquillamente vivere bene viene anche sul divano a farsi fare le coccole quindi cioè meglio di così interagiscono tantissimo ecco interagiscono possono interagire anche con altri animali allora bisogna fare un po' attenzione come sono gli altri animali nel senso che ovviamente si valuta che animali ci sono già in casa e come si comportano e facendo le cose nei giusti modi si possono anche far convivere tipo i conigli coi gatti vivono molto bene bene dunque insomma speriamo che rudolf trovi presto una famiglia che lo possa ospitare in casa per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile chiocciola enpa monza punto it a 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